in questo tutorial di arcadia vedremo come creare un piano superiore e gestire quelli che sono i vari piani di un edificio in questo caso noi abbiamo già generato quello che è un piano terra e adesso procediamo a creare quello che un piano superiore in piano primo andiamo quindi direttamente da gestione progetto e cliccare su aggiungi un piano sopra in questo modo posso scegliere il nome del piano adesso metto piano primo e scegliere quello che è l'altezza complessiva mettiamo 320 metri 3 metri e 20 da considerare anche l'altezza complessiva anche il solaio compreso del spessore del solaio superiore ok quindi adesso lui mi ha creato quello che è una vista c'è un piano primo di riferimento ora non ci resta che poter andare a disegnare e andare a proiettare quello che è il il verso appunto è l'inserimento del mio muro vedete si sta costruendo quello che è il muro andiamo ad allargare un po la finestra così vediamo meglio in alternativa potrei anche procedere invece di disegnare appunto singolarmente ogni elemento potrei anche copiare degli elementi appartenenti già al piano precedente in questo caso basta andare su gestione progetto quindi andare sul piano terra e andarmi a copiare quelli che sono gli elementi di architettura che mi interessa in questo caso io vado a copiare quelle che sono i muri e i pilastri quindi clicco su copia mi porto sul piano primo e faccio incolla gli elementi verranno copiati all'interno sul piano di riferimento e una volta fatto questo io potrei tranquilla posso tranquillamente andare poi a cambiare quella che è la struttura dei muri perimetrare muri di tramezzi e anche per quanto riguarda la distribuzione delle finestre e delle porte di riferimento del piano